T'ho detto, sei vestito come un rappresentante della Zedda. Ah, è diverso. C'è proprio la classe, quindi puoi scegliere. Sì, un gatto. Ok, benvenuto live su Pitch. C'è un gatto. Benvenuti al nexus, gateway ad Andromeda. Io sono Aveena, una virtual intelligenza designed to assisti con l'immigrazione. Puoi dire dove è l'occurso? Scusate, il mio codice è limitato a informazioni e simplici interazioni simulazioni. Poi scegliere le seguenti pre-programmazioni. Di dove vivono coloni? Una volta che vivono l'immigrazione, i nostri aiutati 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 a scegliere il mondo dei miei sogni. C'è il paradiso tropicale di Habitat 7, il piacere rullo di Habitat 3, o, potremmo, il mondo del mondo del mondo di Habitat 5. Quali che usate, resta assurda, i nostri Pathfinders hanno vettato a tutti i mondiali, per assicurare la vostra sicurezza e la prosperità. Oh, no. ... ... ... ... che è stato lì dove siamo arrivati, è stata lì è stata lì è stata lì è stato lì è stato lì è stata lì è stata lì come l'immigrazione lavoriamo a un testo di medicare per assurare la sua salute dopo aver fatto una lunga passata una volta che ci sono stato scoperto i nostri esperti aiutati Oh The Nexus itself is located in a region known as the Helios Cluster Here you and thousands of your fellow colonists will fulfill your dreams of settling a new home fortune awaits What is the Nexus? The Nexus serves as the central hub for the Andromeda initiatives colonization effort It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy Please enjoy the many venues the Nexus has to offer. As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists Providing a safe stable and prosperous environment is our primary goal Not from the looks of it What year is it the current year is 28 19 after spending over 600 years in stasis It's normal to feel disoriented or confused upon arrival Our helpful medical staff can assist with any physical or psychological after effects you may be experiencing Well, she's got the date right at least. So where is everyone? That's all It has been my pleasure. Please see one of our helpful immigration staff for further assistance And welcome to your new home in Andromeda, where the brightest star is you Current wait time for immigration processing is unknown error Right that was helpful Plants are still alive It's like they didn't have anything to call Well, in real, they are not looking at that Hello? Also, what you are collecting is looking at the M5 Phalanx This place should be packed For the two fingers, the other hand I'm sorry 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 Gatto, ti sta piacendo gatto? Gatto Qui c'è un uomo, magari ha un champagne Ciao! Qu'elle viene dal Ark Hyperion e r 95% Gatto Gatto Si Questo è la nexus, non? È credo che in particolare Ma per quanto vale la vostra Camera è di 5 ogg È vero, ma è vero, però è giusto che tu avevi seguito Sì, non è vero, non è vero, non è vero. Il senzor ha detto che l'Arc sia arrivato, ma Helios è vero per scrammellare l'acquipamento. Abbiamo pensato che sei un'altra malfunzione. Ma non ti aspettiamo? Sei il primo Arc che abbiamo visto. Dopo un anno di waiting e non signo di altri, abbiamo chiamato questo area e non pari di guardare. Hai stato scredito un anno per un anno? L'altro. Ci saranno iniziare a l'autocentro. Grazie a tutti. 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 Let me show you something. Grazie a tutti. 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 E se poi te ne prendi? Grazie a tutti. 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 Ehi, Grazie a tutti. 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 a tutti. e 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 a tutti. 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 a tutti.